Era agli arresti domiciliari a causa di un procedimento per atti persecutori, per questo aveva anche il divieto di avvicinarsi alla dimora e ai luoghi frequentati dalla ex compagna. Divieto trasgredito più volte e costatogli il carcere. L'uomo, un cinquantenne residente a Domodossola, è stato arrestato nella serata di martedì dagli uomini della polizia di frontiera. 4 ore su 24